A breve, anche in provincia di Trento, la fecondazione eterologa rientrerà fra le prestazioni coperte dalla sanità pubblica. Con un investimento di 500 mila euro, Adarco è partito l'iter per l'operatività del centro di procreazione medicalmente assistita. Ed ora si attende la pubblicazione dei nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che comprendono la prestazione. Il dirigente del Dipartimento Salute della provincia, Silvio Fedrigotti, dichiara Dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in poi, c'è il diritto per i cittadini di avere la prestazione sanitaria ad un costo che dovrà essere stabilito da ogni regione e da ogni provincia autonoma. Questo intervento provinciale sembra collegarsi in parte all'ordinanza del Tribunale che impone all'azienda sanitaria di erogare per la procreazione eterologa le stesse prestazioni terapeutiche e le stesse condizioni economico-amministrative previste per l'omologa. Di fatto, con la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dei nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, la prestazione eterologa sarà a carico della Sanità Trentina, attraverso pagamento di ticket previsto dai centri ai quali ci si rivolge. Con il finanziamento provinciale, quindi, Arco diventerà l'unico centro di procreazione eterologa in provincia di Trento. È già da qualche mese che ci stiamo muovendo, evidenze all'assessore provinciale alla salute Luca Zeni, dando il mandato al centro di procreazione medicalmente assistita di Arco di attrezzarsi per l'eterologa, di ampliarsi. È un investimento di 500.000 euro. Fra tempi tecnici che riguardano la struttura e tempi burocratici ci vorrà un anno prima dell'operatività. Mentre si annuncia l'avvio della procreazione eterologa all'ospedale di Arco, si conferma la chiusura definitiva del punto nascite. Non sono servite le 12.000 firme raccolte dal comitato Salviamo il punto nascite di Arco e neppure l'intervento dell'onorevole Mauro Ottobre in Parlamento. Il Ministero della Salute, a firma del coordinatore d'ufficio Mauro Dioniso, ha inoltrato all'assessorato alla salute della provincia il chiarimento definitivo circa la correttezza dei dati che hanno decretato la chiusura del punto nascite dell'ospedale di Arco. Nel documento si legge Tutto ciò premesso, continua il testo, si conferma la correttezza dei dati inviati dalla provincia di Trento. Il Ministero sostiene che nonostante gli errori commessi dalla provincia per quanto concerne il bacino d'utenza, i dati mostrino una serie di problematiche oggettive che avrebbero fatto propendere per una risposta negativa alla deroga richiesta.